Musica Ben ritrovati con la nostra informazione, apriamo anche l'edizione di oggi con il grave lutto che ha colpito la nostra emittente. Ieri pomeriggio è mancata Anna Maria Corsanego, moglie del nostro editore Giorgio Tacchino. La signora Anna Maria è sempre stata una figura molto importante per la nostra emittente. Ha seguito fin dagli albori la sua nascita e la crescita, lavorando sempre a fianco del marito dal quale ha avuto tre figlie, Nicoletta, Cristina e Barbara. Il rosario sarà recitato questa sera alle 19 nella chiesa di San Lorenzo a Castelletto d'Orba, dove domani alle 15 sarà celebrato il funerale. Rinnoviamo anche oggi le condoglianze al nostro editore Giorgio Tacchino, alle figlie e alle loro rispettive famiglie. Cambiamo argomento, siamo alla Sanità Alessandrina. L'Asl Alessandria ha annunciato 117 assunzioni, di cui 27 infermieri. Intanto è stato anche rinnovato il presidente della rappresentanza dei sindaci dell'azienda sanitaria locale. Sentiamo. Troppo spesso la cronaca ci obbliga a dare notizia di una sanità che fa acqua, alle prese con tagli e chiusure di ospedali, o con errori che altrettanto spesso finiscono nelle aule dei tribunali. Capita così di lasciare indietro tutta quella fetta di buona sanità che dà lustro a un territorio, quelle eccellenze fatte di professionisti che lavorano con a cuore un solo obiettivo, prestare un servizio per salvare vite umane. E allora fa piacere registrare, come nel caso di Alessandria, che il concorso indetto di recente dall'azienda ospedaliera del capoluogo di provincia per assumere nuovi infermieri abbia riscontrato una valanga di adesioni, oltre ogni previsione. Si erano iscritti in oltre 3.000 per una manciata di posti, ma lo slancio era stato fortissimo, proprio perché si erano aperte possibilità di assunzioni anche per alcuni degli esclusi. E appunto in queste ore si stanno delineando nuovi scenari per chi aveva partecipato a quel concorsone. L'Asla L ha infatti annunciato per il 2016 117 assunzioni, di 73 come personale sanitario. Leggendo il piano assunzioni si ha poi riscontro anche sugli infermieri. Ne entreranno in forze 27, attinti proprio dal concorso promosso dall'azienda ospedaliera. La comunicazione è stata effettuata dal direttore generale Gilberto Gentili alla rappresentanza dei sindaci dell'azienda sanitaria locale. Presente anche il direttore generale dell'Aso Giovanna Baraldi. Durante l'incontro si è svolto anche il passaggio di cariche per la presidenza della rappresentanza dei sindaci. Il testimone è passato da Maria Rita Rossa, primo cittadino di Alessandria e presidente della provincia, a Rocchino Muliere, sindaco di Novi. E ha inaugurato ieri all'ospedale Sant'Anna della città della salute di Torino il nuovo reparto di terapia intensiva neonatale. Presenti John e Lavinia Elkan, in qualità di madrina, Andrea Agnelli, rappresentanti del mondo dello sport, dello spettacolo, del commercio e della cultura e di tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto la fondazione Crescere Insieme al Sant'Anna Onlus, fondata nel 2005. Sono intervenuti l'assessore regionale alla sanità Antonio Saita, il vice sindaco Tisi, il direttore generale della città della salute Gian Paolo Zanetta e Daniele Farina, primario della divisione pediatrica neonatale del Sant'Anna. Il nuovo spazio di 800 metri quadri potrà ospitare 28 posti culla, dove i genitori potranno stare accanto ai loro piccoli 24 ore su 24 e sarà dotato delle più avanzate tecnologie e attrezzature. Ce ne parla Roberto Monteriso. Oggi abbiamo inaugurato, e tra poco lo riempiremo di bambini, la nuova terapia intensiva del Sant'Anna. 28 posti di terapia intensiva, 800 metri quadri, 9 posti di patologia, 19 posti di terapia intensiva e subintensiva, tutti dotati di monitor centralizzati con un sistema di controllo centralizzato in modo che le infermiere possano controllare tutti i pazienti da due unici punti e nel giro di 8-10 giorni porteremo sui bambini della terapia intensiva vecchia e questo reparto comincerà a vivere. Sono tutti fondi privati, tutti raccolti con donazioni, il 99% piccole donazioni, 5-10 euro spese per costruire questo gioiellino e senza la buona volontà della gente, senza la buona volontà dei nostri volontari che hanno venduto i panettoni e le rose nelle piazze, senza la buona volontà di quelli che ci hanno aiutato, Juventus, Fiat, Alfa, LASCOM, le associazioni varie che ci hanno aiutato, noi non avremmo fatto niente. Eppure abbiamo fatto questo miracolo, ci sono voluti 10 anni per fare questo miracolo, ma l'abbiamo fatto. A Sant'Anna nascono mediamente 150 bambini che pesano meno di un chilo e abbiamo circa 1.500 bambini ricoverati in terapia intensiva e in patologia. E qui ne passeranno più della metà. E il destino di questo reparto è diventare sempre più il centro della terapia intensiva neonatale, non soltanto da Sant'Anna, ma della regione. La cronaca con una notizia dell'ultima ora. I carabinieri del nucleo investigativo di Alessandria in collaborazione con i colleghi del RIS di Parma sono a lavoro da questa mattina per accertare se nell'area di posteggio situata fra la Michelin e il cimitero di Spinetta Marengo sia avvenuta una sparatoria. I carabinieri sono alla ricerca di indizi o di proiettili che sarebbero stati esplosi proprio in quella zona. L'altra sera, cosa sia successo non è ancora dato a sapersi. Sulla vicenda, segnalata al 112 da automobilisti di passaggio che avrebbero udito colpi di arma da fuoco esplosi proprio in quel luogo della Fraschetta, i militari per il momento mantengono il massimo riservo. E ancora, chiesta la condanna di un Alessandrino ritenuto colpevole di una misteriosa aggressione. Atterrò uno sconosciuto con un potente pugno. Emma Camagna. Si può colpire con un potente pugno uno sconosciuto per motivi del tutto sconosciuti? Il Tribunale lo dirà il 23 maggio. Doveva farlo ora, ma il giudice ha chiesto tempo. Non è problema semplice. L'imputato è Valentino Pocorobbo, 45 anni, Alessandria, accusato di lesioni personali gravi. La vittima, Patrizio Mantelli, bancario cinquantenne pure di Alessandria, riportò un trauma facciale, prognosi 30 giorni. La sera del 15 febbraio 2011, mentre a piedi percorreva via San Lorenzo, fu aggredito da uno sconosciuto, sceso da un'auto e risalitovi senza aprire bocca. Mantelli fece denuncia ad opera di ignoti, ma un mese dopo tornò dai carabinieri dicendo di aver visto in auto un uomo riconoscendo in lui senza ombra di dubbio l'aggressore e lo riconobbe anche vedendo la sua foto. Era Pocorobbo, incriminato e processato. L'uomo non si è presentato al dibattimento né si è sottoposto ad un confronto. Il PM d'Agata ha chiesto la sua condanna a un anno e otto mesi. Con lui ha concordato Marco Conti, parte civile per Mantelli, a favore del quale ha chiesto un risarcimento. Per il difensore Giulia Boccassi l'uomo va assolto. Non c'entra niente. Una sola cosa però è certa. Martini il pugno se l'è preso, è finito all'ospedale, ancora oggi non sa perché. Lutto nel mondo agricolo che ha dato l'ultimo saluto ieri a Pozzolo Formigaro, a Bartolomeo Bianchi, 83 anni, storico ex presidente di Confagricoltura sia per la provincia di Alessandria che in regione Piemonte con importanti incarichi poi anche a Roma. Malato di tumore, lascia la moglie, i figli Roberto, Paolo, Francesca e numerosi nipoti. Uomo di grande intuito imprenditoriale, lascia un'azienda davvero avviata nel mondo agricolo, nota nel mondo proprio dell'allevamento. È stato punto di riferimento quando la centrale del latte di Alessandria e Asti ha iniziato il proprio percorso sul territorio. Ieri vi abbiamo riferito del progetto Alps Moto Tours che ha il sostegno del territorio e dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea. Non è della stessa opinione Lega Ambiente, Piemonte che in un comunicato spiega le ragioni del suo disaccordo a questo tipo di turismo motorizzato. Sentiamo Roberto Monteriso. Il progetto Alps Moto.tours spiega in un comunicato il Presidente dell'Ega Ambiente Piemonte Fabrizio Dovana viene annunciato come un prodotto turistico in grado di promuovere il territorio della Val di Susa realizzando l'equilibrio tra economia e rispetto per il patrimonio ambientale attraverso un pedaggio e la regolamentazione degli accessi. Proprio questo punto preoccupa fortemente perché il turismo motorizzato può certo, dicono, costituire una risorsa economica ma genera anche un negativo impatto sull'ambiente pur in presenza di pedaggi e va a detrimento proprio delle caratteristiche più attraenti della montagna e cioè l'aria pulita, l'ambiente naturale ricco di flora e fauna e il silenzio. Questo, prosegue Lega Ambiente, lo rende scarsamente conciliabili con altri fruitori perché nessuno ama fare un percorso d'alta quota a piedi o in bici o a cavallo tra il rumore dei motori, la polvere, l'odore dei gas di scarico. Si può proporre come alternativa una regolamentazione che limiti passaggi ai veicoli a motore a due giorni alla settimana per ciascun percorso e che preveda, come nella proposta avanzata, la possibilità di un pedaggio differenziato per i diversi tipi di fruitori in cambio di alcuni servizi, cartina, segnalazione di luoghi di interesse, postazioni per la raccolta rifiuti. Vorremmo, cioè, conclude Lega Ambiente, che la promozione delle nostre valli avvenisse con progetti che le descrivano in primo luogo come il paradiso dei ciclisti e degli escursionisti, tenendo presente che anche chi si muove a piedi o in bici può riempire gli alberghi, godere dell'inno gastronomia locale, richiedere i servizi di negozi e officine specializzate. La montagna è un bene di tutti, deve essere aperta a tutti, ma rispettandone l'ambiente e la naturale fragilità. Lega Ambiente, Piemonte e Valle d'Aosta Pro Natura, la pensano così. Torna, come ogni anno, l'appuntamento con la festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà. L'evento è promosso dal gruppo ACOS e da Gestione Acqua. Ha servito per noi questo primo appuntamento con le anticipazioni Enrico Maria. Maggio e ora anche giugno a Novi Ligure sono sinonimo della festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà organizzata dal gruppo ACOS e da Gestione Acqua. L'iniziativa, nata 19 anni fa, ha l'obiettivo di far conoscere ai cittadini la complessa macchina tecnica e organizzativa per l'erogazione di servizi rinunciabili per la collettività. Questa festa è nata in adesione alla manifestazione organizzata da Feder Utility, ora Utilitalia, in pianti aperti per dare la possibilità alla cittadinanza di vedere quella che è la macchina organizzata appunto per l'erogazione di servizi indispensabili quale acqua potabile e trattamento delle acque reflue. La festa dell'acqua, dell'ambiente, della solidarietà come di consueto offrirà un ricco programma che comprende convegni tematici, mostre, giochi dedicate ai più piccoli, gare sportive, il battesimo della sella e esibizioni di musica e ballo. La tre giorni tradizionale del gruppo ACOS si aprirà venerdì 27 maggio e nel programma degli eventi troverà spazio nuovamente liberamente che si terrà il 16, 17, 18 e 19 giugno nella sede degli Alpini. Una manifestazione che vedrà la partecipazione di associazioni di volontariato e sportive in nome della legalità. La festa dell'acqua, dell'ambiente e delle solidarietà è anche un momento di profonda riflessione per pensare a cosa si è fatto e a cosa si potrà fare dopo i recenti eventi alluvionali che hanno condizionato profondamente la vita del territorio. Stiamo attrezzando al meglio quello che è questo impianto di Bettole per cercare di migliorare migliorare la capacità di pulizia dell'acqua di filtrazione e soprattutto quella di riuscire a proteggere con un progetto che però è piuttosto ambizioso e avrà dei tempi di sicuro molto lunghi di proteggere la parte diciamo di sponda dello scrivia in prossimità dei pozzi che da un po' di tempo a questa parte sta dando un po' di problemi perché ormai quella che era la distanza dei pozzi 20 anni fa si è ridotta a poche decine di metri rispetto al fiume allo stesso modo stiamo lavorando sugli impianti delle valli che portano acqua anche diciamo a Novi a Serravalle eccetera con interventi anche lì mirati la pagina culturale musica e parole ad Alessandria per ricordare la figura di Umberto Eco quando il giorno del funerale di Umberto Eco si venne a sapere che aveva lasciato scritto di non organizzare convegni in sua memoria per 10 anni in molti si chiesero chi sarebbe stato il primo ad infrangere questa volontà beh forse abbiamo risolto il caso giovedì scorso in prefettura ad Alessandria si è svolta una serata di musica e ricordi organizzata dal professor Renato Balduzzi il cui svolgimento però lasciava poco spazio agli equivoci se da una parte infatti il grande fisarmonicista Gianni Coscia amico fin dall'infanzia di Eco intratteneva i fortunati presenti con aneddoti e musica dall'altra Jorge Luther docente dell'Avogadro Maurilio Guasco professore merito e lo stesso Renato Balduzzi esperto di diritto commentavano tre bustine di Minerva per chi non lo sapesse la bustina di Minerva era la seguitissima rubrica che Eco teneva per il settimanale l'Espresso i tre scritti avevano per tema la Costituzione la società liquida e senza più riferimenti ed i processi mediatici ai giudici la serata è stata senza dubbio molto interessante a tratti davvero divertente ma un pensiero malizioso è passato nella testa di tutti i presenti accidenti ma questo è un convegno avrà anche i toni di un incontro tra amici ma è un convegno ecco lungi da noi condannare la scelta di Balduzzi ma dobbiamo dirlo la regola dettata dal grande Alessandrino è stata infranta un desiderio disatteso però ammettiamolo sapevamo bene che sarebbe successo come si può pensare che una figura così importante della cultura internazionale sarebbe stata lasciata in pace da manifestazioni convegni studi o anche semplici celebrazioni Umberto Eco e la sua opera saranno giustamente oggetto dell'attenzione di molti molto prima del 2026 e viene da pensare che forse è stato giusto che il primo disobbedire al suo volere si sia verificato proprio in Alessandria chissà che il professor Balduzzi non abbia creato un precedente decisivo per chi come noi ha amato Eco dieci anni senza un confronto col suo pensiero e le sue parole sono una penitenza che non ci meritiamo beh professor Balduzzi grazie ancora cultura 30 anni di Urbs la storica rivista dell'Accademia Urbense di Ovada ce ne parla Bruno Mattana l'Accademia Urbense di Ovada festeggia i 30 anni di Urbs erano infatti il settembre del 1986 quando un gruppo di appassionati dell'Accademia decisero di far conoscere gli studi e le ricerche storiche che venivano svolte e avevano origine nell'Ovadese nonché tutti i documenti raccolti nell'archivio di Palazzo Maineri dove c'è anche la sede della prestigiosa Accademia che nel 1987 provvide alla registrazione della rivista presso il Tribunale di Alessandria da allora si è avuto un continuo crescendo di attività culturale e storica nonché di sempre maggiore interesse per la pubblicazione così che i fascicoli editi entro l'anno hanno raggiunto i 100 con migliaia di interessanti articoli che si sono occupati e continuano a farlo di usi costumi, personaggi arti e dialetto e altre curiosità sconosciute i più senza contare che nel nome della prestigiosa rivista vengono organizzate anche manifestazioni conferenze iniziative varie per tutti ricordiamo la più recente la storia della grande guerra vista e vissuta con gli occhi degli ovadesi si tratta di un bilancio senz'altro positivo afferma il presidente dell'Accademia nonché direttore di URSA Alessandro Laguzzi una rivista che ha sempre mantenuto un livello di attrazione e informazioni di notevole peso che ha avuto i suoi picchi in occasione di avvenimenti importanti come la storia del risorgimento e appunto la già ricordata grande guerra vissuta in chiave uvadese Ed ora tre minuti con Maurizio Silvestri e con degli studenti in modello Allora oggi siamo qui a Serravalle e dobbiamo parlare di una cosa importantissima perché abbiamo due giovani due grandi giovani un ragazzo e una ragazza che hanno vinto dei premi importantissimi grazie anche alle professoresse che ho qui a fianco Allora professoressa di italiano di italiano sì Allora ci racconti un po' cosa è successo con questi ragazzi Ma noi li abbiamo mandati in rappresentanza della nostra scuola Sharon per l'asse cultura e invece Tiziano per l'asse scientifico matematico Pensate che la Sharon è arrivata? Seconda su su tutta Italia sui centri CNOS che hanno partecipato da tutta Italia e invece il ragazzo? Il ragazzo è arrivato come tutti quelli che non si sono classificati quarto perché c'è un primo un secondo e un terzo premio e tutti sono quarti Allora soddisfazione da parte vostra o no? Assolutamente sì una grande soddisfazione e anche diciamo un piazzamento diciamo così proprio inaspettato perché noi siamo sempre partiti con lo spirito e abbiamo preparato anche i ragazzi proprio nello spirito della partecipazione comunque non aspettarsi nulla se non un'esperienza positiva e diversa insomma e in realtà poi quello che abbiamo portato a casa è stato molto di più per cui una grande soddisfazione per loro e insomma Io passo i ragazzuoli i ragazzuoli allora che sono elementi sono elementi cosa cosa quando hai provato quando sei arrivata a seconda cosa hai provato? Tantissima emozione non me l'aspettavo per niente infatti con i miei prof parlavo delle mie prove dicevo no questa qua non è andata bene non sono preparata e poi invece si è rivelato un po' tutto tutti quelli che dicono ma no non ho studiato poi arrivano a casa e dicono cosa hai preso? un bel voto e poi comunque noi forse come diceva la collega li continuiamo a ripetere dovete andare là perché è una bella cosa vi confronterete con ragazzi della vostra età di tutta Italia questo concorso viene sempre fatto in posti molto belli quest'anno era Verona hanno fatto gita a Venezia e quindi doveva essere proprio un premio per due ragazzi che si sono sempre comportati bene da tutti i punti di vista e io prima ho detto un orgoglio per le insegnanti ma un orgoglio per i genitori o no? certo no è stato veramente bello grazie per averci scelto per questa esperienza perché è stato veramente bello poi al di là dei risultati comunque è stato anche bello confrontarsi con le prove nazionali perché comunque non capita tutti i giorni diciamo io non ho chiesto l'età non si chiede l'età a una donna ma tu sei ancora una ragazza quindi io ho 16 anni e? 17 allora pensate ragazzi 16 anni 17 è la grande soddisfazione che hanno già avuto quindi cosa possiamo dire ai vostri coetane a questi ragazzi di studiare per avere queste soddisfazioni impegnarsi di impegnarsi tanto perché davvero si ottengono soddisfazioni immense ci vediamo alla prossima grazie siamo allo sport il calcio la Lega Pro ha reso noto l'orario d'inizio della gara dei playoff fra Foggia e Alessandria che si disputerà domenica prossima alle 20.45 allo stadio Zaccaria di Foggia e poi ancora Acqui, Castellazzo e Novese retrocedono dalla Serie D in promozione salvo il Dertona grave la situazione finanziaria di Novese e Acqui il presidente del Castellazzo con molta probabilità chiederà alla Lega il ripescaggio della società ce ne parlerà Franco Capone poi come sempre il meteo e la rubrica delle notizie utili grazie per averci seguito arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti